E allora andiamo a Milano dove dal 13 da domani al 17 marzo andrà in scena a Sol il festival di spiritualità. Siamo collegati questa mattina con Monsignor Luca Bressan, vicario episcopale per la cultura, la carità, la missione e l'azione sociale dell'Arcidiocesi di Milano. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti voi. Grazie, grazie per essere con noi. Allora partiamo Monsignor Bressan dal senso di questo evento, di questo festival di spiritualità. Potrei rispondere portando due citazioni. La prima quella dell'assessore alla cultura del Comune di Milano che nella conferenza stampa ha introdotto questo evento, questo festival, dicendo che Milano ha bisogno di una pausa. Una città frenetica come questa ha bisogno di uno spazio, quello che viene creato dal festival, per aiutare effettivamente tutti a fermarsi, a meditare sull'energia che ci guida, sul senso che ci porta effettivamente a vivere tutto questo. L'Arcivescovo poi intervenendo portava come esempio la Madonnina, la Madonnina effettivamente che è in cima al Duomo, che segna l'identità dei milanesi da secoli, svelando un particolare. La statua della Madonna non guarda verso il basso, benedicendo la città, ma al contrario guarda verso l'alto perché rappresenta il mistero dell'assunzione. E lui diceva può essere davvero l'emblema di questo festival, aiutare chiunque passa per Milano, gli abitanti, chi la frequenta, chi ci lavora, chi ci studia, ad alzare lo sguardo e a cercare effettivamente la trascendenza, a cercare, a ascoltare la sette di Dio che ci abita e ci anima. Molto belle queste due immagini che ci ha regalato, quindi guardare al cielo e prendersi una pausa. Milano ha bisogno di una pausa. Allora, quali saranno gli interventi previsti e su quali temi? Il festival è stato pensato appunto come, potremmo dire, un format plurimo che comprende lectures, comprende anche eventi performativi come spettacoli, come visite alla città. Gli eventi sono una cinquantina distribuiti sostanzialmente su tre giorni, su quattro giorni più l'apertura il mercoledì. Gli eventi sostanzialmente toccano vari temi, toccano legati tutti al filo conduttore, al modello tematico di quest'anno, al modulo tematico di quest'anno, che è il tema della meraviglia. E voglio declinare il tema della meraviglia nelle varie dimensioni della vita, la meraviglia confrontata con la scienza, la meraviglia confrontata con l'arte, la meraviglia confrontata con il quotidiano. La meraviglia sia come, potremmo dire, evento positivo che come evento negativo. Ad esempio abbiamo chiesto a uno scrittore, a un professore come D'Avegna, di sviluppare il concetto di stupefacente, sia nella dimensione positiva che nella dimensione della dipendenza, nella dimensione negativa. C'è una forma effettivamente di meraviglia che può anche deprimere l'uomo, ridurne la capacità di crescita e di maturazione. Mentre noi vogliamo effettivamente aiutare tutti a interrogarsi per trovare energie, per crescere e riuscire migliori. Milano è una città... Per quanto riguarda i nomi... Sì, sì, prego. Prego, prego, continui, Monsignor Bressan. No, dicevo, riguardo ai nomi, effettivamente abbiamo cercato quei nomi nei vari campi della ricerca e del pensiero che possano destare meraviglia ascoltando il nome e vedendo il pensiero, ecco. Per cui ad esempio avremo la riflessione di Massimo Cacciari che di per sé è una persona anche abbastanza conosciuta e abituata a intervenire anche in dibattiti ecclesiali qua a Milano. Avremo l'apertura di Baricco che parlerà di se stesso dopo effettivamente l'esperienza della malattia che ha vissuto e come ha imparato a rileggere la sua vita e a gustare in modo diversi giorni. Avremo Fabiola Gianotti, avremo il Cardinale Tolentino, effettivamente nomi che c'è... e poi anche gente locale, avremo anche esponenti di varie religioni. Avremo la religione ebraica con il rabbino capo di Milano che ci spiegherà la meraviglia nella tradizione ebraica in un luogo significativo come il memoriale del Shoah, il binario 21. Avremo la presenza della religione islamica in questo periodo che per loro è il mese sacro del Ramadan. Davvero effettivamente un motore di meraviglia che non vuole lasciare indifferente nessuno. E che non vuole lasciare scoperta potremmo dire nessuna zona di Milano perché è un festival diffuso, giusto? Giusto, perché appunto noi volevamo avere come soggetto la città, non semplicemente alcuni luoghi per cui abbiamo immaginato il festival, dopo abbiamo dovuto anche ridimensionarlo perché come sapete nella costruzione poi dei festival il realismo serve anche a partire dalle giuste questioni economiche. Abbiamo immaginato il festival che fosse una forma di contaminazione, permettesse a tutti, anche ai nuovi milanesi, di conoscere i luoghi che la tradizione ci ha consegnato come luoghi di meraviglia. A partire dalle grandi basiliche che risalgono fino ai tempi di Sant'Ambrogio. E lì ad esempio ospiteremo dibattiti laici. Anche gente che si professa non credente si accosterà, parlerà in quei luoghi di meraviglia proprio per aiutare tutti a lasciarsi interrogare da quei luoghi. E allo stesso tempo abiteremo nuovi luoghi della meraviglia. Il festival ha voluto radunare insieme anche i nuovi soggetti che popolano e creano cultura Milano. Ad esempio abbiamo una bella collaborazione col Piccolo Teatro di Milano, con la Fondazione Culturale Feltrinelli, con la Triennale. Abbiamo la Banca Intesa che ci sostiene e quindi ci ha permesso di accedere ad esempio alla Fondazione Corriere della Sera. L'idea è effettivamente di avere tanti luoghi. Cito Banca Intesa perché Banca Intesa ci aveva chiesto espressamente di portare il festival il più possibile nelle periferie. E abbiamo cercato davvero, avremmo voluto di più. L'unico ostacolo che ci ha sostanzialmente rallentato è stata la questione dei trasporti, dei mezzi di trasporto, come immaginare, come rendere fattibile la partecipazione della gente a questo festival. Per cui l'evento che faremo più lontano alla Università Umani da San Rozzano effettivamente sarà anche un evento difficoltoso. L'abbiamo messo in uno spazio un po' dilatato perché lì si arriva solo in auto e in effetti, a proposito di meraviglia, stupisce che la Milano che si prepara al futuro fatichi a connettersi, a costruire la bici dell'arite di comunicazione che è una capacità di muoversi in modo sostenibile. Quanta verità nelle sue parole, situazioni che riguardano non solo la città di Milano ma anche tante altre città. grandi città italiane. Ha parlato di meraviglia e questa parola è risuonata più volte nelle sue considerazioni, Monsignor Bressani, in quello che ci sta raccontando. Alla luce di tutto questo è fondamentale per noi cristiani, nonostante le brutture del momento che stiamo vivendo, continuare a meravigliarci? Sì, anzi, potremmo dire che l'energia di cui ha bisogno il mondo ha bisogno dei cristiani e anche delle fredi, ma soprattutto noi che ci professiamo cristiani e ci crediamo cristiani, ecco, il contributo che possiamo portare è quello, questa capacità di meravigliarsi per alzare lo sguardo, come ci ha raccontato più volte Gesù nei Vangeli. La storia del mondo sarà sempre segnata e ci accompagnerà con le sue violenze, con le sue catastrofi. L'ingrediente che serve è una presenza di un amore gratuito, effettivamente di uno sguardo gratuito, di una ricerca di relazione gratuita, che permette di capire che il mondo non è solo il male che vediamo, ma al contrario c'è una trama di bene, che è il principio della Ressurrezione, che lo anima e lo porta verso il Regno. E questo è il significato principale. Il festival non a caso si chiude alla domenica, 15 giorni prima di Pasqua, con questo evento al mattino sulle Guglie del Duomo, dove avremo l'Arcivescovo, che ci invita a salutare il sole che sorge, per ricordarci che effettivamente di meraviglia si nutre ogni giornata. Un gesto che a noi appare meccanico, il sorgere del sole, in realtà è un principio gratuito d'amore che va riletto. E terminerà la sera in un'altra chiesa, nella Basilica di San Lorenzo, con l'attore Popolizio, che ci leggerà alcune pagine delle confessioni di Agostino, dove appunto lui scopre, anche se tardi, come la meraviglia, è il motore che l'ha mosso tutta la vita e gli ha permesso di conoscere colui che l'ha creato. Che meraviglia, direi. Io sono rimasta veramente stasiata dalle sue parole, Monsignor Bressan, ma dal fitto calendario di incontri. Prova a strapparle una promessa, magari risentirci qualche giorno dopo il festival, magari con qualche immagine, qualche stralcio per poter commentare e condividerlo anche con i nostri amici. Grazie, allora. Volentieri, grazie. Allora, grazie dell'invito e buon festival anche a voi, anche se da lontano. Allora, ricordiamo l'appuntamento a Milano da domani a domenica 17, il festival di spiritualità, vediamo anche il sito web soulfestival.it. Bene, grazie allora ancora una volta Monsignor Luca Bressan, vicario episcopale della Diocesi di Milano per la cultura, la carità, la missione e l'azione sociale. per essere stato con noi, ci fermiamo per la pubblicità e poi ancora insieme.